Grazie Presidente, dunque per il quadrante più compromesso di Roma Capitale sotto il profilo ambientale gli indirizzi sono abbastanza semplici da dare e seppur semplici molto importanti. Su questo indirizzo chiediamo, quindi semplicemente dopo le azioni di salvaguardia sulla Valle Galleria che abbiamo approvato qualche settimana fa, chiediamo di mettere in sicurezza la zona a partire da una tempestiva riconversione del sito Ama in via Luigi Montel quindi a ridosso della discarica di Malagrotta, come abbiamo detto più volte è una delle discariche più grandi d'Europa quindi da l'impatto ambientale sicuramente molto importante e di cui ancora paghiamo il peso dopo più di 45 anni. L'indirizzo in realtà vuole anche impedire in prossimità del sito che poi è stato soggetto già nel 2014 ad un allagamento che ha comportato una distribuzione dei rifiuti ospedalieri su tutto il territorio circostante che è soggetto poi a un dissesto idrogeologico importante. Abbiamo chiesto appunto attorno al sito di prevedere una serie di azioni che fungano sia da maggiore monitoraggio sia da, ripeto, una messa in sicurezza che possa impedire ulteriori progetti o impianti che impattino sul territorio e sulla vivibilità del territorio. Chiediamo quindi una serie di azioni tra cui la riforestazione, il monitoraggio degli impatti od origini oltre naturalmente all'individuazione di siti di trasferenza alternativi cosa che poi anche la stessa opposizione ci aveva chiesto in fase di discussione della delibera sulla salvaguardia della Valle Galeria quindi ecco oggi portiamo l'atto che avevamo anticipato già qualche giorno fa e quindi, ripeto, andiamo a chiedere l'impegno per una maggiore tutela e monitoraggio dell'area attorno al sito AMA in via Luigi Montella e quindi nei pressi di Malagrotta e azioni di messa in sicurezza. Ricordiamo che il territorio ha delle industrie classificate come insalubri per il testo unico delle leggi sanitarie e anche impianti a rischio di incidenti rilevanti pertanto ci sembrava opportuno al termine dei 180 giorni previsti per la trasferenza temporanea sul sito AMA prevedere queste azioni. Grazie.